Il tema vero appunto con cui abbiamo aperto è quello delle donne e lì c'è una parola che ho sentito dire al professor D'Averio un mesetto fa quando ci siamo sentiti per la prima volta al telefono che gli ho sentito ripetere mezz'ora fa negli incontri con la stampa che abbiamo avuto e naturalmente avevo un dizionario e sono andato subito a guardarmela perché è mononeuronica. Mononeuronica, sì. Partiamo da lì. Sì perché io sono sempre stato spaventato, all'inizio divertito poi spaventato dalle guerrilla girls che c'erano a New York, voi non ve lo ricordate forse, c'era questo gruppo che si chiamava guerrilla girls, erano le donne che facevano la guerriglia contro i maschi negli anni settanta, era la parte in un qualche modo più divertita di quello che da noi era il femminismo anni settanta. Il femminismo anni settanta non ha dato grandi risultati. Voglio subito essere provocatore. Mettete in scena due personalità politiche. Che cosa ha in comune anche la Merkel e la Sant'Anche? Dobbiamo avere coraggio di pensarci sopra perché se la Germania ha prodotto quel tipo di personalità e l'Italia ha quell'altro tipo di personalità, io non esprimo giudizi di merito, faccio solo il mio mestiere, io non sono un critico d'arte, io faccio l'antropologo culturale. Il mio mestiere è molto divertente. Gli antropologi non esprimono giudizi di merito, vanno, fanno l'analisi e codificano, vanno a vedere le tribù e guardano e chiedono come mai questa tribù i missionari li mangia cotti, per esempio al vapore, e come mai quest'altra tribù invece li mangia rosto e su questo fa la sua indagine, ma non esprime un parere su il tipo di cucina con il quale viene trasformato il missionario veronese in un alimento gradevole. Questo è il mestiere dell'antropologo. E' lo stesso percorso che mi porta a chiedermi in che cosa sta la differenza fra Merkel e Sant'Anche? E' una domanda seria che ci dobbiamo porre, perché è la differenza fra due mondi ed è la differenza che ci pone anche una serie di questioni, di indagine vera e propria. Come mai l'Italia è così diversa? Come mai noi abbiamo avuto un'evoluzione che ha preso delle strade non ancora definite e che però possono trovare, per quello che leggevo la cosina di Einstein prima, nel momento di crisi possono trovare una verifica. Io vorrei partire proprio da qui, cioè cosa vuol dire oggi portare una verifica. Quando sono troppo lungo mi interrompete subito. Sì, sì, ma va benissimo. Ma io penso che già dalle cose che sto dicendo vedo qualcuno che sta scrivendo. Ripartiamo dal percorso anni 70. Nel percorso anni 70, quello delle Guerrilla Girls, si immaginava che le donne e gli uomini fossero la stessa cosa. Per fortuna sono diverse, se no la vita sarebbe molto noiosa. Questa differenza l'aveva già intuita un grande pensatore francese del Cinquecento che era Montaigne. Montaigne diceva «J'aime le commerce des femmes». Per commercio in Francia allora si intendeva la frequentazione, non intendeva dire che comprava e vendeva delle signore. Cioè per un intellettuale del Cinquecento il dialogo col mondo femminile era assolutamente necessario e fondamentale perché faceva parte della pratica. Attenzione, è stato così anche in Italia nel Cinquecento. Non vuole andare fino nel caso della colonna amica di Michelangelo. Abbiamo fatto recentemente un lavoro abbastanza lungo su la figura femminile emancipata dei primi anni del Cinquecento e sulla mutazione avvenuta poi dopo il Concilio di Trento, quando il Concilio di Trento è rimesso un po' a posto tutti. Il prete fa il prete, il signor Conte fa il signor Conte, il contadino grata la terra, la donna grata le padelle. Era questo un po' il risultato. E noi siamo vissuti in questo patto sociale fino a ieri mattina. Oggi questo patto sociale fa fatica a reggere perché la meccanica evolutiva della società e la meccanica evolutiva dei sistemi di produzione sui quali si fonda la società richiede delle competenze diverse e richiede un'articolazione diversa. Ora, su questo partiamo subito dal dato vero. Cioè non è che la donna in Italia non avesse potere. L'Italia dell'inizio del ventesimo secolo era un paese più matriarcale che patriarcale. Gli uomini comandavano all'osteria o al lavoro, anche nell'esercito. Le donne comandavano in casa sugli uomini che comandavano l'esercito, almeno nelle classi abbienti, ma anche nelle classi più povere. Nei quelli miserabili no, perché le classi miserabili non avendo alcun diritto al comando di alcun genere non contava in fondo la differenza tra essere uomo e donna nell'essere dei disperati. Ma appena si formava un'area di potere l'Italia generava questo bizzarro rapporto. Cioè lui vestito di nero era in Parlamento, lei un po' colorata però tirava le fila dietro. Questo modello antiquato non ha retto la modernizzazione ed è entrato in crisi negli anni 70, generando anche delle posizioni un po' estreme. Queste posizioni estreme non hanno però avuto la capacità di mutare la società proprio perché erano estreme e hanno lasciato il segno, che dicevo prima, della differenza tra Sant'Anche e Merkel. Oggi è venuto il momento di farci un ragionamento serio in che cosa vuol dire il mondo femminile nella produzione, ma non solo nella produzione, nella gestione della società, che cosa vuol dire il mondo maschile. Non c'è dubbio che noi partiamo da una società nella quale i sacerdoti sono maschi e la signora Merkel appartiene alla società nella quale il vescovo può essere una donna. Questa differenza ha delle conseguenze reali nella vita quotidiana. Noi però dobbiamo chiederci in che cosa siamo noi particolari e qual è la strada che stiamo per intraprendere. Non voglio, io non mi permetterei mai, di suggerire al Vaticano di introdurre il sacerdozio femminile. Questo è un problema che deve affrontare il Papa, non sono fatti i miei. Però mi interessa, analizzando la tribù, vedere la differenza nelle tribù europee fra le tribù nelle quali la funzione sacerdotale è anche attribuibile o è attribuibile alle donne e le società delle tribù europee nelle quali le donne sono escluse. Quindi ho preso subito un punto di partenza molto lontano in realtà perché è anche un po' provocatorio, se no finisce diciamo delle banalità. Ma questa posizione così lontana dalla realtà concreta ci permette di porci delle domande. Questo è il primo punto dal quale devo partire. L'altro punto invece è questo racconto un po' spiritoso che faccio sul paleolitico ogni tanto. Mi interessa molto il paleolitico, perché ho degli amici che si occupano di paleolitico e vi giuro è divertentissimo. Molti dei nostri comportamenti hanno delle radici molto profonde, sono storiche. Tra l'altro la cosa bizzarra è che alla radice della mutazione che ci ha portato ad essere specie umana, quelli di oggi, il sapiens sapiens, c'è una mutazione femminile ovviamente che è ormai abbastanza certificata perché pare che siamo passati dall'essere quello che eravamo prima ma adesso è quello che siamo dopo, in base alla mutazione della membrana che racchiude l'ovulo che contiene una sua specificità genetica che si chiama mitocondrio. La mutazione del mitocondrio è il fatto che siamo diventati quelli che siamo. Noi discendiamo tutti più o meno dalla stessa origine centroafricana che poi si è spostata un po' verso l'Himalaya, poi ha preso la curva sinistra, è arrivata anche a Verona, poi anche a Milano un po' dopo perché il treno era in ritardo. Ma questo meccanismo della genesi dell'umanità parte ovviamente dalla mutazione femminile. Allora, se prendiamo queste due considerazioni, da un lato la funzione della donna nelle società diverse in Europa, dall'altro la centralità della figura femminile e infine la storica figura femminile italiana che aveva un suo ruolo ben specifico finché l'Italia era un paese sostanzialmente agricolo, ci dobbiamo porre la domanda come mai non è mutata la figura della donna nel passaggio dall'essere mondo agricolo a diventare mondo industriale. Questa è la domanda complicata. Perché mai il paese si è bloccato in questa evoluzione che invece ha visto gran parte dei paesi europei cambiare radicalmente. Come mai l'Italia non ha mai percepito, per esempio, e questo sta nella normativa storica, come mai non ha percepito il ruolo fondamentale delle donne nella capacità di governare non solo la casa ma gli stati. Guardate in fondo, fra le figure più eminenti della storia politica dal Settecento ad oggi spiccono dei personaggi tipo Caterina II di Russia, che non era mica proprio rallentata, Maria Teresa d'Austria, che ne la sapeva lunga, la regina Vittoria che ha trasformato l'Inghilterra in una potenza mondiale. Se guardiamo indietro, parliamo indietro di due secoli, soltanto due secoli e mezzo, andiamo a scoprire che in realtà le donne sono particolarmente adatte ai governi lunghi. Non so perché, però è un dato oggettivo in Europa, non in Italia, chiariamola subito. Però anche nell'Italia di alcune aree, se torniamo ad un'epoca fondamentale che è stato il nostro Settecento, quando ci fu una grossa influenza teresiana in Italia, l'Italia ha avuto un appoggio abbastanza importante attraverso questa cultura femminile nordica, a tal punto che Maria Carolina era quella che di fatto teneva il diritto Ferdinando IV come re di Napoli, lei figlia di Maria Teresa d'Austria. Però l'Italia vera, quella democratica, oppure ancora quella prima, quella della modernità dall'inizio del XX secolo, è stata costantemente un'Italia maschilista. Che risposta dargli oggi? Cioè, che tipo di società possiamo immaginare come società innovativa? Una parte del mondo imprenditoriale ce lo insegna, ma una parte piccolissima, cioè penso la Rina Brion o la Diana Bracco, ma non sono sufficienti loro due a definire una mutazione. Allora, la questione la riporterei a... Lei prima ha citato l'eccellenza italiana, io di solito dico l'Italia è vincente in quattro F, parlando di donne, prego non pensate a quella quinta. Le quattro F sono in inglese food, fashion, furniture e Ferrari. In questi quattro campi siamo mondialmente imbattibili. Se togliamo la Ferrari, perché il mestiere del meccanico è piuttosto sul mestiere maschile, nelle altre tre F la parità uomo-donna è stata raggiunta. Allora, se i settori vincenti sono oggi settori dove il mondo femminile compete, non compete, integra, non dialoga, si coniuga, è più interessante come termine, con il mondo maschile, questo ci può dare una luce sui meccanismi e sulla logica di questi meccanismi. Perché quando la creatività di questi settori diventa una creatività vincente, dobbiamo anche immaginarci il perché noi diventano. Vi ricordate bene ancora negli anni Ottanta quando abbiamo avuto la fortuna della grande accelerazione commerciale. Noi abbiamo avuto un boom vero negli anni Cinquanta e un secondo momento molto forte negli anni Ottanta. Poi ci siamo accattorciati nella questione politica degli anni Novanta e lì siamo andati in crisi. Contemporaneamente si stava anche ponendo la questione della mutazione dei sistemi produttivi. Cioè quelli di Torino pensavano che l'avvocato avrebbe per sempre dovuto ricevere soldi dello Stato per fare delle macchine che erano meno belle di quelle degli stranieri. Mentre in realtà la media piccola impresa cominciava a competere sul serio. La media piccola impresa aveva cominciato in Italia ad avere alcuni intuiti che erano abbastanza fuori dall'ordinario. Cioè l'Italia era l'unico paese dove e questa era la spiegazione anche l'unica possibile del boom degli anni Ottanta l'Italia era l'unico paese dove non era necessaria la ricerca di mercato. Mentre le grandi aziende fondavano la loro capacità di adeguarsi al mercato sulle ricerche di mercato sull'influenza di mercato in Italia queste robe avvenevano per intuito molto spesso. Do degli esempi banali ma che abbiamo anche guardato e studiato con un po' di attenzione. La mini azienda di Zip la Zip, no? Non sono grandi fabbriche quelle delle Zip che si trova di fronte a un'ipotetica crisi della Zip deve essere capace di inventare il passaggio della Zip dai pantaloni alla borsetta. Noi abbiamo preso una propria indagine che con una genialità assoluta aveva intuito un calo del mercato delle Zip nel vestiario negli anni Ottanta e in due settimane si era riconvertita tanto erano 30 operai. Non c'era bisogno di fare una lunga indagine di mercato. Allora, nella capacità di intuire dove vanno le cose di anusare il mercato la complessità polineuronica femminile è più utile del mononeurismo neuronico maschile. Cioè il maschio è pronto ad insistere fino al falimento con assoluta perseveranza le donne sono capaci di cambiare opinioni in un attimo. Cioè, in fondo il più bravo analista della mutazione aziendale della donna rimane ancora il librettista di Giuseppe Verdi. Cioè, nell'azienda la donna è mobile il maschio meno. Porto questo ragionamento e le ultime conseguenze poi ne rido la parola. qual è il settore italiano oggi più anchilosato? Sì, il più difficile nel muovere il più incestato il più problematico il settore bancario è vero o no? Ci sono bancari in sala? Sulle mani. No, sulle mani ma è oggettivamente cioè il mondo bancario italiano rispetto al resto del mondo dell'impresa è innegabilmente quello che fa più fatica ad adeguarsi alle mutazioni di mercato. Qual è l'unico settore nel quale negli alti consigli di amministrazione non risiede una donna? Il mondo bancario. Qual è l'unico settore del mondo bancario che riesce a non distaccarsi dalla realtà? La singola agenzia perché la singola agenzia è l'erede del rapporto storico della banca col tessuto sociale il che è specifico dell'Italia non per esempio degli Stati Uniti cioè da noi la banca sopravvive bene quando è ancorata al territorio perché ne conosce le caratteristiche e per quanto oggi la banca sempre di più potrebbe diventare uno strumento del mondo dell'internet da noi rimane viva la necessità del rapporto con lo sportello quello è l'unico settore bancario nel quale le donne sono direttrici allora